Hola a todos, ¿qué tal? Faccio questo video tag perché molti di voi sono nuovi sul canale, quindi molti di voi non conoscono bene chi sono, che faccio, dove vengo, perché sono qui. Quindi benvenuti in mai tutto a tutti quelli nuovi. Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto ad aprire un canale YouTube? Beh, io inizialmente avevo aperto il canale YouTube in spagnolo, soltanto per gli spagnoli. Ovvero, cercavo di insegnare un po' l'idea di spagnolo e di far vedere com'era la vita in Italia. E quindi in realtà parlavo in spagnolo perché volevo anche fare un po' pratica, all'epoca ancora non studiavo lingue all'università, quindi volevo fare pratica. Poi ho detto, perché non fare la stessa cosa però con gli italiani? Mi interessava, mi divertiva come idea, ci ho provato e ecco qui. E quindi sì, studio comunque adesso lingue, per la cronaca spagnolo, arabo e portoghese. E that's it, andiamo avanti. Quali sono le motivazioni giuste per aprire un canale YouTube? Io non credo ci siano delle motivazioni giuste per aprire un canale. Se tu senti di poter dare qualcosa, di poter fare qualcosa di inutile, utile, bello, brutto che sia, ma vuoi trasmettere qualcosa a tutti i costi alla gente, beh, YouTube è fatto per te. Che collaborazioni accetti? Non ho avuto grandi proposte, grandi collaborazioni, se non una piccola apparizione, siamo sulla TV l'anno scorso per il programma tutorial. Insomma, in realtà io accetto tutte le collaborazioni, sono apertissimo a tutti. E... non esageriamo. Comunque sì, accetto tutte le collaborazioni sostanzialmente. Chiaramente ognuna aveva valutata in base a tanti fattori. Quindi, delle collaboration, voi scrivete sempre, è tutto ben accetto. Sei partner? Yes. Cosa comporta? Allora, in realtà la partnership di Bebem comporta... niente, che si può aggiungere, si può modificare in qualche modo la grafica del canale. Posso aggiungere le anteprime personalizzate sotto i video. Quanto guadagni? Big money. Come reagisci agli attacchi degli haters? In realtà non reagisco, perché grazie al cielo non ho haters per adesso. Allora, dopo questo video, tanti haters e troll. Vabbè, grazie. Però sì, davvero, non ho grazie al cielo haters, quindi... thumbs up. Benissimo ragazzi, questo era il video di oggi. Spero abbiate avuto modo di conoscervi un po' di più. Se avete domande, perplessità, scrivetelo qui sotto in un commento. Io rispondo sempre a tutti, sono felicissimo di potervi rispondere. E adesso passiamo ai saluti, finalmente. Oggi saluto il mio caro amico Sivilliano, Francisco Martín. Ciao Fran. E saluto una ragazza che mi segue da tantissimo tempo e ti ringrazio veramente tantissimo, che è Sara Coppola. Ciao ragazzi. E se non lo siete, ricordatevi anche di iscrivervi al canale. Altrimenti non potrete vedere i miei nuovi video. Fatelo cliccando sulla mia faccia, su qui. Ovunque sullo schermo, clicca dove vuoi e ti iscriverai al canale. Molte grazie per vedere questo video. A presto. A presto.